Distrutte tutte le punte del trapano nel tentativo fallito di aprire la cassaforte trovata nel giardino di un lontano parente riesumato pochi giorni fa, il quale aveva lasciato una dettagliata mappa del tesoro in bella vista nella sua bara, ma essendo a detta di tutti un gran burlone, ho deciso di risetterrare la cassaforte, la mappa e lui. Mentre per le punte ho dovuto recuperare un nuovo kit che guarda caso era ben in vista al solito Eurospin a circa 4 euro, marca Kairos, 11 punte per plastica e metallo, in un comodo contenitore cilindrico in grado di selezionare misura e punta. Saranno in grado di forare almeno un metallo non durissimo tipo lottone senza autodistruggersi. Spacchetto e faccio una prova al volo. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. 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 Ciao.